Caso di talcementi di Calusco D'Adda, la salute dei cittadini viene prima di tutto. L'azienda ha chiesto la possibilità di innalzare la quota di combustibili solidi secondari impiegati nello stabilimento al confine con la provincia di Lecco. Le forze politiche che siedono a Villa Locatelli raccolgono le preoccupazioni di cittadini e amministratori dell'area merattese e chiedono quindi al presidente della provincia Alessandra Hoffman di fare tutto il possibile perché nulla si è dato per scontato. Nell'impianto di Calusco D'Adda si produce clinker, un componente base per il cemento che si ricava dalla lavorazione di argilla e calcare. I materiali vengono cotti in un forno. Nell'impianto di Calusco, a fianco dei combustibili fossili, vengono impiegati combustibili solidi secondari ricavati cioè dalla lavorazione dei rifiuti urbani. A oggi la quota massima è di 30.000 tonnellate l'anno. L'azienda però ha chiesto e ha ottenuto la possibilità di aumentare questa quota per più di tre volte arrivando al limite di 110.000 tonnellate l'anno. Una scelta che preoccupa cittadini e amministratori dell'area merattese. I tre capigruppo Paolo Lanfranchi, Fabio Mastro Berardino e Giovanni Ghislandi si sono dunque fatti portavoce di questo disagio e chiedono alla presidente Hoffman di sostenere i comuni in questa battaglia con maggiori verifiche e controlli, di partecipare alla redazione di un nuovo protocollo d'intesa fra l'azienda e i comuni interessati e soprattutto di chiedere a tutti gli organismi sanitari coinvolti uno studio epidemiologico che fotografi la situazione sanitaria dei paesi circostanti l'impianto prima che l'azienda aumenti la quota di combustibile ricavato dai rifiuti bruciato. Una richiesta corale che cerca di alzare l'attenzione su un tema già in passato al centro di polemiche per il comprensibile timore che aumentare la quota di combustibili secondari possa avere una qualche ricaduta sulla salute di chi vive nelle zone circostanti l'impianto.